Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro Otto di Torino. E adesso concentriamoci sull'ultimo film in programma, Sing 2, diretto da Garth Jennings, presentato in anteprima come film d'apertura alla 39esima edizione del Torino Film Festival, sequel d'animazione del primo film del 2016 di successo, che vedeva un gruppo di animali capitanati dal koala Buster Moon, che per salvare il Moon Theater dalla chiusura decide di indire una gara a Canora così da riportare il teatro al suo vecchio splendore. Questa volta i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theater per debuttare su un palco ancora più prestigioso. Buster infatti Buster sogna di esibirsi al Crystal Tower Theater nell'icantevole Racial City, ma senza nessuna conoscenza non sarà facile. Buster Moon, che è doppiato da Matthew McConaughey nella versione originale, e il suo straordinario gruppo di amici formato dalla scroffa Rosita, Reese Whitterspoon, il porcospino Rock Rush, Scala Johansson, il gorilla Johnny, Taron Egerton, l'elefantemina Torichelli e il porcellino Gunther, Nick Kroll, dovranno riuscire ad entrare di nascosto nei famosi uffici della Crystal Entertainment, dirette dello spietato lupo Jimmy Crystal, che nella voce originale è doppiata da Bobby Cannaval. Per attirare l'interesse di Mr. Crystal, Buster la dice crossa. Lui assicura che farà parte del suo nuovo show, la leggenda del leone rock Clay Calloway, che è doppiato nella versione originale dal cantante Bono, il leader de Yushu, e nella versione italiana doppiato da Zucchero. Purtroppo Buster non ha mai conosciuto Clay e averlo nel suo gruppo è quasi impossibile. Infatti l'artista, dopo la scomparsa della moglie, è da più di dieci anni che lui non si fa più vedere in giro. Così, mentre da una parte Gunther e Buster si preparano a realizzare il loro più sorprendente spettacolo teatrale, dall'altra per far fronte alle minacce di Mr. Crystal Mount, loro dovranno trovare e convincere il solitario Clay ad unirizio a loro. Ciao, e per salutarci io vi dico due parole. Ciao a tutti, io sono Dario, oggi leggerò la foglia di Coltica, le sette, poi passaggio di campagna e felice di raccogli di fiori che crescono sulle rive ai bordi della strada. Coltica ha già un bel mazzetto di tirano ucoli e magherite. Vuole aggiungere un ramo di foglie, con tanti dentini e allungare la mano. Ma le ritira subito perché sente che le foglie pungono e bruciano. Bisenta, piange e lascia cadere i fiori che non hanno ancora colpa. Il fuoco è il fuoco, stella la bambina. Non c'è il fuoco, c'è solamente una piantina di ortica che può irritare e arrossare la pelle. Ciao a tutti, siamo Francesco e Lorenzo e per il laboratorio a Speed Hub facciamo il Re Leone, scena 5. Simba, Simba mi hai molto deluso. Lo so. Avrebbero potuto ucciderti, mi hai disubbettito dimlegatamente, quel che è peggio, hai messo un'ala in pericolo. Stavo solo cercando di essere coraggioso come te. Ma io sono coraggioso solo quando devo esserlo. Simba, essere coraggiosi non significa andare in cerca di guai. Ma tu non hai paura di niente? Oggi ho avuto paura. Davvero? Sì, temevo di poterti perdere. Oh, allora anche i Re hanno paura. La sai una cosa? Che cosa? Credo che le Iene abbiano avuto una paurissima. Perché nessuno può permettersi di sfidare tuo padre. Vieni qui piccolo. Oh no, ti prendo. Buongiorno, io sono Antonino ed oggi vi leggerò il Rospo Rorò. Rorò era un rospo da giardino, ma non era contento di vivere in un giardino. Stare in mezzo ai fiori non gli piaceva. Considerava sdolcinati i colori dei loro petali e disgustosi i loro profumi. Però non era stato sempre così. I giardinieri lo avevano messo in quel luogo per fare la guardia alle amatissime piante della principessa Elina. Rorò aveva un incarico ben preciso. Doveva tenere alla larga le lumache, che sono golose di foioline tenere, e i parassiti, insetti che si nutrono rubando le sostanze utili alla crescita delle piante. Rorò era un rospo in gamba, sapeva fare il proprio lavoro, e lo aveva dimostrato in più di una occasione, specialmente quando era giovane e di belle speranze. Nessuna lumaca osava avvicinarsi a un fiore in sua presenza, e appena gli insetti lo vedevano apparire da lontano, fuggivano dalle elevate. Da un po' di tempo, però, le cose non andavano per il verso giusto. Rorò non era contento, e purtroppo il suo problema non era quello di abitare in un giardino. In realtà, la vera ragione dello scontento del rospo era che non voleva essere un rospo. Tutto aveva avuto inizio il giorno in cui la principessa Elina era scesa in giardino tenendo tra le mani il libro che aveva ricevuto per il compleanno. Che bella storia, fece con un gran sorriso. Non vedo l'ora di proseguire la lettura del racconto. E cominciò a leggere ad alta voce rivolgendosi ai fiori, agli alberi e alle piante acquatiche del laghetto, come se questi fossero stati degli spettatori. Anche il rospo sotto una grande foglia ascoltava il racconto. Elina leggeva le avventure di un principe che era stato trasformato in un rospo da una strega malvagia. Rorò ascoltava la triste vita del principe che, costretto ad abbandonare il suo castello e le sue vesti preziose, viveva da rospo nelle pozze melmose, ricoperto da una pelle viscida piena di verruche. Rorò era commosso e pensava come fosse disperata l'esistenza di quel poveretto, costretto da rospo a mangiare lumache e a scacciare parassiti giorno e notte. Fu in quel momento che si rese conto che, in realtà, quella era proprio la sua vita. D'un tratto si sentì l'essere più triste e solo del mondo, e gli sfuggì un lamento. Il rospo fece un salto e si mise sull'erba proprio di fronte a lei. Vedo che sei molto interessato al racconto, disse Elina sorridendo. Bene, allora proseguiamo. La principessa leggeva e il rospo ascoltava. Infine il principe rospo trovò una principessa gentile che lo baciò. Il bacio della principessa sciolse l'incantesimo della strega malvagia, ed egli riprese le sue sembianze regali. Il finale fu una vera sorpresa per il rospo, che da quel momento in poi pensò di essere un principe, senza alcun dubbio. Per questo motivo cominciò a non vivere più volentieri nel giardino, e gli pesava fare tutte quelle cose da rospo che fino a quel momento aveva fatto così volentieri. Pensa e ripensa, un bel mattino decise di andare al castello per trovare la principessa Elina e risolvere il suo problema. Elina stava facendo i compiti, quando all'improvviso vide il rospo balzare sul davanzale della finestra. «Salve, come mai da queste parti?» chiese tutta divertita. «Vedo che hai lasciato il giardino, vuoi trasferirti al castello?» Per tutta risposta il rospo con un balzo raggiunse la sedia e la occupò. «I rospi di solito non si siedono sulle sedie. Che cosa vuoi farmi capire? Non sarai per caso un principe come quello della storia?» chiese Elina incuriosita. «Grac, grac!» gracidò con energia il rospo. Senza pensarci due volte, la principessa prese il rospo tra le mani e gli schioccò un bacio sul muso viscido. «Eeeh!» fece disgustata subito dopo, sputacchiando a destra e a sinistra. Tutti e due rimasero immobili per vedere se il bacio avesse prodotto qualche effetto. «Ma che?» niente di niente. Tutto era rimasto perfettamente come prima. «Croc!» fece mesto il rospo. Elina si accorse della grande delusione e cercò di trovare le parole giuste per consolarlo. «Caro rospo, come vedi non sei diventato principe. Non sempre quello che accade nelle fiabe sia vera. Non sei un principe, ma sei un gran bel rospo. Non ti manca proprio nulla. Hai la pelle visci dal punto giusto e tutte le verrucchette che ti danno un'aria davvero spaventosa. Perché in fondo è proprio quello che devi fare, no? Devi spaventare tutti quegli animali che potrebbero amminacciare i fiori del giardino. Come farebbero i giardinieri senza di te? Sai che ti dico, tu sei davvero prezioso e per questo ti meriti un premio!» Dette queste parole, la principessa si tolse la corona dal capo e la mise in testa al rospo. «Ti incorono rospo principe, guardiano del giardino reale!» Non vi dico la felicità del rospo. Si guardò nello specchio e si vide bellissimo. Altro che principe rospo. Era un rospo principe e si sentiva importante quasi quanto il re. Rorò con la sua corona in testa tornò nel giardino e lì visse felice giorno dopo giorno, rispettato da tutti gli animali. «Buongiorno a tutti, noi siamo Alberto e Arianna per il laboratorio Aspitav, cattivissimo me, scena uno!» «No, no, 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 no! Come sarebbe e non verrà? Ho il giardino pieno di bimbette strepitanti e ansiose di vedere la principessa delle fate?» «Ah, che male! Ah, infermo! No, non voglio un mozzo! Voglio la principessa delle fate! La prego, la prego! Lo supplico! No!» «Beh, spero che dorma stanotte brutto distruttore di sogni di bimbette.» «Oh, quando arriva la principessa delle fate?» «Da un momento all'altro.» «Evviva!» «Distraetela!» «Beh, spero che dorme!» «Grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro 8!» «Per oggi è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata!» «Sì, bella!" «Sì, bella!» Sì, bella!»